Mi dici come fai a credere nel mondo, a chiedere consiglio a chi ti sta vicino, a riporre la fiducia negli oggetti e nelle cose, nelle persone. Mi dici come puoi riempire questo vuoto e sorridere di gusto, tra le mura di un rapporto, distogliere lo sguardo da ogni forma di fastidio e apprezzare quelle cose che tu solamente hai. In fondo esser te stesso rimarrà sempre un regalo, un tesoro da difendere, con caparvietà, la speranza di star bene con qualcuno come te, la speranza di sperare, senza chiedersi perché. Senza chiedersi perché. Mi dici come fai a reagire senza chiedersi perché.